torniamo con corrado passera che adesso è il leader di un movimento politico italia unica ma non le ha chiesto nessuno di assumere negli ultimi anni una posizione manageriale come quella che aveva occupato in passato tanti tanti e questo ovviamente fonte di soddisfazione però adesso è venuto un'altra fase della vita glielo domando perché per capire la sua scelta è una scelta che può sembrare irrazionale per chi non mi conosce molti miei amici l'hanno capito insomma dopo tanti anni a mettere a posto rilanciare costruire grandi aziende nel pubblico nel privato ma anche no profit non profit insomma adesso è venuto secondo me il momento di mettere a disposizione questa esperienza della politica cioè di ciò che poi crea le condizioni per cui le aziende le famiglie possono meglio svilupparsi ho dedicato questi ultimi due anni a mettere insieme girando molto per l'italia un grande programma di rilancio del paese perché questo paese ha bisogno di lasciare zavorre di mettersi a guardare avanti di accelerare cosa che non succede da troppo tempo e essendoci stato un bel ritorno anche in termini di consenso abbiamo creato questo partito abbiamo 150 nostre presenze sul territorio che chiamiamo porte perché è da quella porta che si entra nel partito non abbiamo paura di chiamarlo partito perché questo è quello che la costituzione prevede per raccogliere voti e quindi è partita questa fase della vita dimenticandosi le belle offerte perché sennò uno non dorme di notte quindi quella quel capitolo della sua vita professionale è chiuso è chiuso ecco non chiamiamolo più movimento come ho fatto io finora chiamiamolo partito ecco un partito ancora piccolo giovane parte adesso come pensa di poter essere influente sulle scelte che la politica farà nei prossimi mesi idee forti coraggio di criticare ma sempre con delle proposte alternative radicamento sui territori cioè le tante italie che vengono a partecipare a questo a questo movimento questo partito quindi idee persone radicamento e poi dall'anno prossimo presenza nelle 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 elezioni che possono essere quelle amministrative l'anno prossimo avremo una serie di città importanti su cui saremo direttamente attori e poi ci saranno le elezioni politiche dove ci sarà la grande affermazione di questa seconda gamba della democrazia secondo polo della democrazia che oggi un po manca certo quindi la quella la prospettiva ecco con questa sua nuova posizione qual è la pagella che dà ai governi che sono venuti dopo il governo monti in cui lei era ministro cioè quindi il governo letta e il governo renzi attuale sul fronte dell'innovazione fermiamoci sui temi del cambiamento non basterebbe un'intera giornata di trasmissione allora sulle startup apprezzamento è stata accolta la grande innovazione che abbiamo portato è stata supportata è stata elaborata è stata arricchita in certi punti ogni tanto è stata un po' anacquata adesso ma comunque la strada è stata accolta e rafforzata quindi complimenti perché molto spesso i governi distruggono quello che è stato fatto dai governi precedenti nel campo delle startup non è successo così in generale sull'innovazione invece molto giudizio molto negativo partiamo dalla dall'agenzia per le per l'italia digitale eravamo riusciti a mettere insieme tutte le componenti che in maniera dispersa si occupavano di innovazione di informatizzazione di ripensamento della 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 pubblica amministrazione è stato perso quasi un anno per lo statuto poi stanti mesi per la nomina del primo del secondo direttore che poi se n'è andato adesso ce n'è un altro insomma persi due anni cioè questo è un giudizio negativissimo ed è stato di nuovo costruito tutto un sistema di orpelli di governance che non faciliteranno la l'innovazione nella pubblica amministrazione poi sui due grandi temi che noi come italia unica e io personalmente considero fondamentali ricerca e innovazione molta timidezza